MECRAR è una software house italiana precisamente di Genova, che si occupa esclusivamente di software gestionale. È stata fondata nell'84, quindi ormai ci avviciniamo verso i 30 anni di evoluzione di prodotti che sono rivolti quasi esclusivamente verso la piccola e media azienda italiana e da qualche anno anche verso le aziende estere, in quanto siamo sul mercato internazionale in 5 paesi stranieri. In questi paesi siamo anche tradotti in lingua nativa e soprattutto localizzati fiscalmente, che è fondamentale per poter dare un servizio completo anche alle aziende di quei paesi. Negli ultimi anni siamo approdati già dal 2003 alla piattaforma .NET, completamente basata su applicativi Microsoft, utilizzando largamente i web services. Usiamo i web services per collegare la nostra procedura con altre applicazioni esterne, ad esempio, quindi possiamo rendere possibile all'azienda di estendere le competenze che va cercando verso applicativi anche che non sono micro area, ma che sono dinamicamente interfacciati con il nostro prodotto. Tra le cose che abbiamo rilasciato invece di recente sono la piattaforma web, quindi abbiamo reso possibile all'utente finale, qualsiasi utente finale, poter utilizzare Mago con l'interfaccia classica Windows oppure l'interfaccia web con i vari browser che si possono trovare sul mercato, i più noti, può essere Google Chrome, Internet Explorer, per chi ha Macchina e Mac, anche Safari ad esempio. In effetti quello che vuole fare Micolare è proprio ascoltare l'utente finale, cercare di capire quali sono le sue esigenze e grazie alle sinergie che stiamo creando, che abbiamo creato e le funzionalità che abbiamo sviluppato, dargli il massimo delle risposte. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS